You make me feel invincible I feel, I feel it Invincible I feel, I feel it Invincible Salve a tutti e bentornati su Overfoolish, prima di tutto Diciamo una cosa importantissima Perché è veramente una cosa importantissima Per me e per il canale Prima di tutto ti presenti Perché te non ti presenti mai Dome, Dome Di che ci sei Ci sono, ci sono C'è, c'è E abbiamo anche sistemato quel problemino di microfono Perché nelle scorse puntate purtroppo si sentiva Pianissimo, non si sa perché Problemi di Playstation, attenzione Non problemi di microfono Ma tornando a noi c'è un evento Grandioso Io ragazzi ho messo la fibra Oggi con la Dome abbiamo deciso Di fare eroi misteriosi perché vogliamo perdere Quando mai, vero Dome? Ma lo sai che hanno Hanno mega nerfato Merci di nuovo? Sì lo so Hai visto? Infatti tu non mi vedi ma c'ho un sorriso stampato in faccia che veramente Hanno nerfato Merci Hanno nerfato Merci Oh ma ci abbiamo molti giocatori A chi stanno sparando? Ah manca l'avevo vista Ecco tipo ora usare i cecchini Con la fibra per me è molto più facile Perché non mi teletrasportano i giocatori davanti Che bello Arefato 60prem al secondo Sì Vedi come muoiono Vedi come muoiono E non sto facendo quasi nulla Doo 4 colpi precisi Ma la stagna di Mechry passa attraverso lo scopo, ma davvero? No, no, ma se vinciamo stavolta, rido, rido male No, tu eri l'unica che non si è presa le cure Ho detto qui e faccio il cecchino dal camperone Ah, a proposito, sto prendendo anche le cuffie con microfono nuovo Sì, finalmente non mi si sentirà borbottare cose senza senso e di sottofondo Io in realtà parlo, però si sente tipo un bordo, io, ormantile Io sto morendo, aiuto! Eh, dove sei? Eh, aspetta, sei dietro Dietro, vieni qua Ma com'è che io sto usando, Anna? Ma quando è che ho usato Anna, Dio mio? Ah, fa... Ah, da Halloween, vero? Qualcuno di te, per me che... Sta stompendo le balle Scusate, ragazzi, eh No, non ti conviene No, infatti Vabbè, volevo... Volevi cosa volevi? Volevo cambiarlo, non mi piace ma Chris Spacca tutto Oh, sono Anna anch'io Se Anna anche tu, che bello, eh Essere vecchi Vabbè, noi ci abbiamo avuto però culo perché abbiamo due... due cose Due... Orisa Tre, tanto, praticamente Sì Sì, cioè, è squilibratissimo Perché te la gioca... Non far nulla scusa? Vieni con noi Spici si diverte, vedi? Sono appena morto Però sono gnocca, sono gnocca! Allora... Ci mettiamo qui A fare le persone brutte che smiperano Io non so come finita Mazza però che potenza che c'ha Guido Maker, eh Cacchio, si usano gli sniper, Dio mio Perché mi hai fatto giocare a questa modalità? Uh, abbiamo vinto Abbiamo vinto, sì, ma... Immeritatissimo Quando i bambini fanno... Ooooooh Sperando che tu vincoli Eh, esatto Eh, vabbè Dipende dal team, non dipende solo da te È l'unica scusa plausibile su Overwatch Dipende dal team Chi sono? Fatemi vedere chi sono Oh mio Dio, sono Anzo Non c'ha il mirino, ma come si fa? Non c'è un cavolo nessuno, tutti escono di là Bene Se escono di là siamo tutti fottuti perché tipo... Eccola Fara! Come si fa? Come si fa? Sto morendo, sto morendo Dio mio, aiutatemi Grazie Aspettare di prendere questi cacchi di cosa Non si fa! Oh Risa Bene Mai usato in vita mia Qual è lo scudo? R1 Ok Ma per fortuna c'ha una mitraglietta Almeno mi ci sento un po' più o meno l'altro Ma non finiscono mai i proiettili d'orisa? Oh Madonna ma un sacco di proiettili E' morto? E' morto? E' morto? E' morto? E' morto? Questo è lo scudo e questo? E' morto? Diva su, diva su! Va qui! Eh si, vuole lentissimo! Usare orisa è discretamente molto più facile che di fare altro eh? C'è? E' morto? E' morto? Ma dove? E' morto? E' morto? La povera Mercy, quella povera Mercy Sono io cacchio! Ah sei te! Ok sono di nuovo risa L'uomo! E' morto? sto prendendo gusto guarda aiuto non ho preso un giocatore che so usare uno non ne ho preso no ho sbagliato 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 aiuto 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 Doomfist peggio di peggio mamma mia R1 L2 oddio ho ucciso la mercy non so come L1 e L1 che non ti riesco a farci ehm oh almeno l'ho trovato la gente muore ma non per merito mio ora sono Sombra ho uno che so usare non c'è cos'ha? c'ho 3000 cose L1 diventa invisibile no ok questo è il coso così diventa invisibile però ti da soddisfazione uccidere qualcuno con qualcun altro che non sa usare Anzo di nuovo secondo me c'è una graduatoria dei personaggi che non hai usato e te li mette praticamente tutti in fila levati Rodo che non vedo nulla eppure la fara poi è bello che la dovrei buttar giù io la fara ma datemi uno che so usare dio mio uuu headshot gara di cecchini ci abbiamo qualcuno dietro ci abbiamo qualcuno dietro ci abbiamo qualcuno dietro ci abbiamo qualcuno dietro già che ce l'ho da uso per una maggiore sicurezza spostarsi dietro la barriera spostarsi dietro la barriera ma immaginate i giocatori parlare con le voce delle nonnette si prega di spostarsi dietro uuuu Sombra dietro Sombra dietro Sombra dietro non ne sto beccando uno che sia uno le spalle dammela scatter nooo l'ho mancata clamorosamente grazie a chiunque mi stia ricaricando ma nooo dove farà io non so come sto facendo a sopravvivere a tutte le cose la nostra mercy deve essere dio ma donna come si parla la mia sta per lungere la destinazione che spalle queste persone che si ricaricano ok sono finalmente morto no mi resuc... io odio mercy stavolta dov'è come si fa a mirare con angio è... 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 è orribile cioè se io sto prendendo qualcuno è perfuro puro è specificato eh muori Uccisioni Ah, ho fatto pure una doppia L'ho preso L'ho preso L'ho preso 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 Ho preso la tagliola Non l'ho manco vista Madonna Che cosa sta succedendo Cosa hai fatto? Ho preso polro Dopo ce l'ha Ho fatto bene Reinhardt, Reinhardt Puoi dargli giù lo scuro tipo subito Grazie Ragazzi vengono anche dal lato Io ogni tanto là dentro Ci butto una scatter Sperando di prendere qualcuno Ma il destino è infame Come si fa? Via La nostra Mercy fa più di me Ne sta uccidendo più lei che io Te lo giuro No Farà Già meglio Già più fattibile Hansel Al nostro servizio Deve morire Bello quando si mettono tutti insieme C'hanno una Mercy Che stanno ricaricando Agli 3x2 La nostra Mercy è tipo Fortissima Doppia Non sto volando nemmeno Sono proprio Ah ho visto cecchino Che ci hai provato Mi sono fatto male da solo Sono un deficiente Una pioggia di giustizia Ma dai Oh adesso mi hanno dato diva Cioè ora mi hanno dato Uno che sai usare Sì appunto No Non sono mai riuscito a uscire dalla porta Adesso che mi hanno dato qualcuno che sai usare Dai Vaffanculo Azione mia E vabbè dai Sì il nostro Bastion ha fatto le strade Insieme alla nostra Mercy Da lì Come si divertiva Anche oggi abbiamo dato il massimo anche nella morte Vi ringrazio per averci seguito fino a questo momento E vi invito a seguirci alla prossima puntata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti